Ha esteso gli istruttori anche a Trenitalia dicendo che... Ma gli istruttori fa bene estenderli, gli istruttori non dicono assolutamente... Deve raccogliere dati e informazioni, mi pare ragionevole che chieda informazioni a Trenitalia. La cosa che invece non è vera e non ci sta bene è che sia stato detto che noi abbiamo dato informazioni false. Questo è assolutamente falso. Allora abbiamo ripetuto per errore, come vi sarete potuti accorgere due volte, la risposta di Moretti. Era quello, Arena, che cosa ne dice? Che cosa ne dico? Per quanto riguarda la questione delle regioni, visto che si parlava di cartaceo, è evidente, come tutti sanno, noi abbiamo fatto a livello sperimentale, visto che c'è una domanda notevole, diciamo d'estate, per andare a mare con Treni decenti e non con quelli che attualmente ci sono, che peraltro mi risulta che la regione, non ne sono sicuro, ma ho sentito le giornali che gli ha dato un X in più per fare i treni, cioè c'è il contatto di servizio, c'è tutto il resto, poi mi sembra 500 mila Euro, non lo so cosa siano, adesso non vorrei dire una cifra per un'altra, per fare i treni per andare al mare, che poi sono i treni che ci sono, cioè insomma non degni per un paese civile. Abbiamo fatto tutte le fermate che volevamo, perché anche lì ogni volta che io apro bocca, RFI, perché è una delle entità che possono chiedere di intervenire all'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari, che fa parte del gruppo Ferroviario dello Stato, non è un'entità separata, ha chiesto all'Ufficio di Regolazione cosa ne pensava ai fini anche del collegamento verso la Liguria e verso la Toscana, dico queste due regioni perché erano citate. Le risposte dei due assessori, di cui una, è scritto nero su bianco, non sto raccontando una favola, è ben chiara, non solo l'assessore toscano ha risposto che ha, non rompe l'equilibrio economico del trasporto pubblico locale toscano, ma anzi benvenga a Rena West perché integra il servizio e c'è scritto addirittura anzi che avrebbe chiesto ulteriormente altri servizi. Non è dello stesso tono, così deciso la Regione Liguria, però è anche in termini positivi. C'è questo per dire le cose. L'antitrust. Sì, ma poi volevo dire l'ultima cosa. Poi tutta questa storia qua di rompe l'equilibrio economico, veramente tutti ci considerano, a tutti i cittadini vengono considerati degli emeriti imbecilli, cioè così con... perché basta che racconti una cosa, una storia di questo tipo qua, poi mi piacerebbe sapere come si fa a rompere l'equilibrio economico di Trenitalia sull'attorino Milano con due treni o quattro treni contro i 300 che fa Trenitalia. Cioè, come faccio a rompere l'equilibrio economico? Cioè, sembra quasi che sia... cioè, è presa veramente... E poi l'ultima cosa, volevo dire, ma se hai firmato un contratto di servizio e dai già una barcata di soldi all'operatore nazionale, ma perché dovrebbe chiederti di più? E l'altra cosa, perché gliele devi dare se ti chiede ancora di più? Perché dice, c'è Arena West, allora mi devi dare altri 20 milioni di euro. Perché questo? Cioè, l'è scritto da qualche parte, l'ha ordinato il medico e allora mi chiedo perché la Regione o l'assessore, qualsiasi cosa gli chiede dall'altra parte, gliela deve dare. Qual è il motivo? Senta, invece per quanto riguarda l'antitrust a cui, insomma, lei ha fatto ricorso, quando dovrebbe decidere? Non lo so. Ficca presente che la richiesta di intervento è stata di dicembre dell'anno scorso, ha fatto la sua verifica e la verifica è ancora in corso, c'è stato un atto ispettivo dal quale ha rilevato delle informazioni che ormai ha citato più volte, quindi non voglio neanche entrare in merito. Quindi quando trovo a decidere, teoricamente non è dovuto decidere già tanto tempo fa. Perché è stata già rinviata la decisione. Non è che devo considerare che prima aspettano che veramente si metta una pietra sopra ad Arena West e poi tutti faranno i commenti positivi, io l'avevo detto, aveva ragione, tutto il resto. Cioè, questo si fa normalmente dei morti che poi si dice quanto era bravo. Certo, quando è troppo tardi. Burzi, ma la regione secondo lei ha cambiato idea, appunto, anche alla luce di quest'ordine del giorno, che non era esattamente un ordine del giorno comunque, che è stato approvato? Guardi, qui non si tratta di cambiare idea o meno. Gli assessori, tutti, di qualunque giunta e quella attualmente in carica, di cui io sono un modesto componente di maggioranza, hanno come proprio compito di realizzare ciò che il proprio mandato elettorale o l'Aula, il Consiglio regionale, che è il, noi siamo, come posso dire, i singoli condomini titolari dell'azione della giunta. Allora, siccome per una volta, molto raro peraltro, è per questo che lo sottolineo, non è affatto consueto che un'Aula legislativa, come per esempio quella della regione, su un tema non, tutt'altro che poco concreto, perché questo è un tema estremamente concreto, trovi una condivisione collettiva. La condivisione c'è stata, compito dell'assessore, in questo caso l'assessore Bonino, e della sua giunta è realizzare nei comportamenti quanto la mozione di indirizzo dice. Dopodiché trovo assolutamente normale che Moretti, che è il capo del monopolio, difenda il monopolio. Non credo che si debba andare a chiedere a chi produce nel Malboro se il fumo fa bene o fa male, perché è contraddittorio rispetto ai suoi interessi. È nei fatti che in questa regione, non soltanto in questo periodo, ci sia carenza di servizi, cioè non ci sono tutti i servizi che i cittadini vorrebbero, e che molti di questi servizi siano carenti di qualità. Il compito degli altri interlocutori, che sono dei piccoli Davide come dimensione rispetto a Golia, che è il monopolio, perché bisogna anche, ha ragione Arena a dire che questa dicitura di rottura di equilibrio economico è come se lui e io decidessimo di costruire una macchina e Marchione ci dicesse che mi dà fastidio. Certo che gli dà fastidio, ma non certo perché rompi l'equilibrio economico, perché non ce ne sta nelle dimensioni. Il compito della regione è tutelare le aziende esistenti, perché oggi i posti di lavoro secondo me devono essere, devono avere un'attenzione maggiore delle specie in via di estinzione, per essere molto precisi in questo periodo, e da favorire la nascita di altri esperimenti come questo, perché servono, appunto, liberalizzando, a migliorare i servizi esistenti e a aggiungerne di quelli che oggi non ci sono. Dottore Arena, cos'è che l'ha costretta a portare i libri in tribunale? Io non volevo portare i libri in tribunale, tra l'altro Arena West non era un'azienda in stato di insolvenza, quindi è stata la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, come dice parola maggioranza, 3 su 4 effettivamente, che però rappresentavano quel famoso 51%, che ha deciso di quasi una richiesta di fallimento preventivo, perché noi fino al giorno dopo abbiamo anche pagato regolarmente gli stipendi, anzi perché non abbiamo mai pagato in ritardo gli stipendi, il 27 è il giorno prima, anche la 14esima, nessuna banca ci ha chiesto di rientrare perché avevamo anche il conto inattivo. I servizi come andavano? I servizi e sono quelli che andavano male, tipo i servizi di Torino Milano, perché effettivamente noi, nonostante il blocco che ci ha fatto due giorni prima dell'avvio del sistema dopo i soldi spesi e anche la campagna pubblicitaria, io non pensavo che sarei andato avanti per un anno in quel modo lì, perché pensavo una cosa talmente assurda e per usare i termini attualmente, tanto diciamo, ma nessuno si indegna a livello della regione e così via, perché non era soltanto… Cioè pensava anche in una soluzione rapida probabilmente. Ma sì, perché era talmente grossolana la questione, però a nessuno non gli è fregato niente, ma a nessuno dico in assoluto, cioè evidentemente noi siamo livellati a un certo così, poi il servizio ha incominciato a funzionare in qualche modo bene perché tra l'altro mi dispiace per i nostri clienti più affezionati, soprattutto lei sa che in Piemonte si chiudono molte aziende, una di queste è la Technimont che si è trasferita a Milano. Allora una cosa che faceva piangere con, cioè non con tutte e due gli occhi, almeno il trasferimento, almeno un centinaio di persone viaggiavano con noi perché avevano un treno decente, era diventato quasi il loro club di trasferimento. ha cercato appunto di offrire un servizio di qualità elevata, una cosa che adesso dobbiamo anche dirlo, la regione con Trenitalia sta cercando di fare però in via sperimentale, su treni che effettivamente sono stati, come si dice, revampizzati, cioè sono stati cambiati sempre, cioè c'è uno sforzo in questo senso, lei dice che è anche una conseguenza. Sì signore, questo è positivo, quindi lo dobbiamo ad Arena West. Ma signore, è una delle leggi del mercato, produce un servizio buono e ripeto, se il signor Arena non è stato così bravo da indurre tutta una serie di persone a scrivere ai giornali, a specchio dei tempi, perché io lì ho letto cose, o le ha fatte il suo ufficio marketing, complimenti, oppure i cittadini stavano dicendo ma perché deve smettere un'azienda che ci sta dando lì quello che io voglio. E' da lì che siamo partiti. Anche incentivando in qualche modo l'operatore pubblico, diciamo così, a migliorare il servizio. Esatto, ma se quando senti l'intervista che è stata fatta giusto il 13 mattina, il 13 mattina prima della mozione del pomeriggio, diciamo casualmente, con una carrozza revampizzata, che comunque sono delle vecchie carrozze del 70, però è giusto che c'è un'idea di andare a fare… Sì, c'è un tentativo di migliorare questo futuro. Ma la cosa per me è curiosa, non so se… io l'ho sentita così, non so se ho capito male, dice ci sarà anche l'informazione a bordo, no? Ricordo un qualche cosa che… di Arena Way. Ci hanno copiato, dice. Ora, volevo solo dire, quello che noi stiamo facendo e vogliamo fare è la normalità, perché l'altra cosa che qui ci sfugge anche lei mentre parlava, la normalità è la nostra, la normalità è l'altra. Certo. Ora, arrivare a questo livello qua, cioè è difficile, anche perché io sono un'azienda piccola e evidentemente riesco a gestire in un certo modo, però la gente vuole questo ed è questo che ha da altre parti, in altri paesi europei. E qui dobbiamo fare tutte queste storie per avere questo, ma mi sembra veramente ridicolo tra l'altro. E poi perché diamo fastidio, perché diamo la normalità? Siamo praticamente in chiusura, credo, non so se abbiamo ancora tempo oppure no, fatemi un cenno. Burzi, un minuto. Questo caso di Arena Way naturalmente si inserisce in un discorso più ampio della liberalizzazione del servizio di trasporto locale, tra l'altro la regione dovrà affrontare il problema di nuove gare, cioè di mettere a gara il trasporto pubblico locale dopo che sono state annullate le gare indette dalla precedente amministrazione. Ecco, anche in questo caso voi che cosa chiedete, che cosa vi aspettate, dove, in che direzione stiamo andando? Anche per questa parte, nella mozione di indirizzo e nell'ordine del giorno c'è un punto specifico che fa riferimento proprio all'argomento che lei ha sin qui sottolineato, indirizzando la giunta a fare le gare per privatizzare e a farle in modo che il numero di coloro che partecipino sia il più alto possibile ed essendo il più alto possibile possano implicitamente favorirne l'assegnazione della gara e la ricerca della qualità dell'assegnazione, perché è l'unica strada per migliorare i servizi pubblici, non ce ne sono altre, in più in un periodo in cui il denaro pubblico, come tutti ormai hanno capito, è finito, quindi bisogna cominciare a imparare con le buone, cogliendo l'occasione, o con le meno buone, imponendocelo a fare efficienza. Noi ci dobbiamo fermare, ci auguriamo tanto che questa vicenda si possa concludere in modo positivo, vi ringrazio per essere stati con noi oggi, ringrazio voi che ci seguite da a casa, torniamo domani con una nuova puntata. E allora canta perché la vita regalare ancora sa un po' di felicità. E allora aria, aria pulita.